Giovedì prossimo Napoli festeggia la prima giornata cittadina del pizzaiolo, evento istituito un anno fa con delibera digiunta dall'amministrazione comunale per festeggiare e valorizzare l'arte del pizzaiolo napoletano riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio Immateriale dell'Umanità. La ricorrenza si terrà il 17 gennaio in onore di Sant'Antuono, protettore del pizzaiolo, e per l'occasione le pizzerie numerose che aderiscono all'iniziativa proporranno a cittadini e turisti una pizza speciale dedicata al santo. Abbiamo recuperato questa tradizione delle antiche famiglie di pizzerie napoletane, le pizzerie napoletane diciamo fino agli anni 20 più o meno, perché ritengo 24, 25, 1924, 25, facevano mezza giornata di lavoro, poi radunavano le famiglie e se ne andavano tutti quanti in gita fuori porta e spesso andavano in un ristorante che era a capo di monta e colla mineri, si chiamava Peri Castagna, non esiste più ovviamente, e loro lì festeggiavano Sant'Antuono, accendevano il falò, perché era il protettore dei forni, del fuoco e quindi lo ritenevano il proprio protettore. Per i giovani stiamo cercando di non far dimenticare la tradizione, perché come voi ben sapete non c'è innovazione senza tradizione. Le associazioni sono state sempre insieme, abbiamo avuto due percorsi differenti, ma alla fine lo scopo è quello là di arrivare al traguardo con la pizza un po' disciplinata un po' in tutta Europa, un po' in tutto il mondo e l'arte del pizzaiolo che ancora deve essere poi tutelato vero e proprio, perché tutelare l'arte del pizzaiolo vuol dire inserire l'arte del pizzaiolo nelle scuole alberghiere. La ricetta richiama nei colori e nei sapori lo spirito della festa che tradizionalmente dava avvio al periodo di carnevale, quindi gli ingredienti tipici della lasagna napoletana. Al pomodoro, mozzarella, olio e basilico della classica margherita si aggiungono salsiccia, salame piccante e ricotta. L'accompagneremo con informazione, diffusione dell'elenco delle pizzerie nelle quali sarà possibile mangiare la pizza dedicata a Sant'Antuono e cercando di accompagnare questa giornata con tante iniziative culturali, perché il bello della giornata del pizzaiolo è che riscopriamo una tradizione che sembrava sepolta il secolo scorso, è una giornata speciale dedicata all'arte del pizzaiolo, il lavoro del pizzaiolo e la giornata della città di Napoli.